Buongiorno cari fratelli e sorelle, grande famiglia, il Signore vi conceda la pace, la forza, la salute e ogni benedizione. Inizio con voi un cammino. Avete mai letto tutto il libro dei salmi che è contenuto nella Sacra Scrittura? Sapete quanti sono i salmi? Ora incominciamo insieme un cammino per conoscere i salmi, perché non solo i salmi ci parlano, ma i salmi sono davvero un aiuto concreto nella preghiera. Per esempio, tutti coloro che vivono la vita religiosa, che si formano alla vita religiosa, scandiscono la loro quotidianità con la preghiera dei salmi. L'ufficio delle letture, le lodi mattutine, l'ora media, i vespri, la compieta, ma anche tanti cristiani hanno imparato a farlo. I salmi sono 150 ed è bello sottolineare come il salmo numero uno invita a scegliere con la propria persona, anche con il proprio corpo, il Signore. E l'ultimo salmo, il 150, invita a lodare Dio con la propria vita, a lodarlo sempre, con le proprie labbra, a lodarlo con il cuore, a lodarlo con la gioia, con le danze, con i tamburelli. Quindi ecco, tutta la nostra persona è chiamata a scegliere il Signore. Partiamo da qualche versetto del Salmo 1. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. Ecco, chi è il figlio di Dio? Chi è il cristiano? Chi devi essere tu? Uno che deve fare una scelta. Io sto dalla parte del Signore, dalla parte della giustizia, dalla parte della grazia, della verità, della parola di Dio, della Chiesa, dei comandamenti, della misericordia e non voglio stare con i malvaggi, con gli empi. Chi sono i malvaggi? Coloro che hanno il cuore vuoto di Dio e pieno del demonio, vuoto della grazia e pieno dei vizi, vuoto delle virtù e pieno delle immoralità, vuoto dell'onnipotenza del Signore e pieno della superbia umana. Noi non possiamo stare con queste persone perché rischieremmo di cadere e di essere come loro o peggio di loro. Il Signore veglia sul cammino dei giusti mentre la via dei malvaggi va in rovina. Forse vi prenderanno in giro. Che ne so, perché andate in chiesa, perché portate in tasca un rosario o al collo, perché pregate, perché indossate una medaglietta miracolosa, perché ancora parlate di miracoli, perché ancora parlate della Madonna, forse vi umilieranno, forse vi daranno degli antichi, dei retrogradi, dei bigotti. Ma voi scrivetevi nel vostro cuore e sulle stipidi delle vostre porte questa frase. Il Signore veglia sul cammino dei giusti mentre la via dei malvaggi va in rovina. Io scelgo di essere giusto. E tu cosa scegli? E ora preghiamo insieme perché il Signore ci doni la forza per scegliere Dio. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen. Chiediamo aiuto anche alla Mamma Celeste. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Un bacio e forza e coraggio. Il Signore è con noi.